1 Monitorare il ghiaccio sulla Terra attraverso lo spazio. E' questa la missione di ISAT-2, nuovo satellite della NASA lanciato in orbita dalla California. Percorrerà la distanza tra i poli a 500 km di distanza, consegnando una mole di informazioni senza precedenti. Più sofisticato di quello usato nella prima missione ISAT lanciata nel 2003, il nuovo strumento emetterà 10.000 impulsi laser al secondo, misurando poi il tempo che impiegheranno per colpire la superficie della Terra e tornare indietro. I ricercatori puntano così a misurare lo spessore dei ghiacci, monitorandone lo scioglimento per capire i meccanismi di innalzamento del livello dei mari. Una minaccia globale se si pensa che in Antartide e in Groenlandia si perdono miliardi di tonnellate di ghiaccio all'anno e che il polo nord dagli anni Ottanta ha perso i due terzi della sua estensione.